Un'altra, sì, la domanda è quella che mi piace di più. Qual è il dato scientificamente più eclatante che parla di Dio? Allora, volete che io non abbia in mente, insomma, con un po' di ambizione, un po' di orgoglio, no? Una prova personale dell'esistenza di Dio ce l'abbiamo un po' tutti. Ognuno di noi ha le sue ragioni per cui esiste Dio, no? Dobbiamo essere sempre pronti a rendere ragione della fede che è in noi. Ecco, per me la prova scientifica offerta dalla scienza, diciamo, la prova ricavata dallo studio delle scienze, più eclatante, come usa questa domanda, dell'esistenza di un creatore è questa. no, cercavo se non avevo un'altra. Questa. Perché uomo e donna? Perché? Adesso cerco di raccontarla, di narrarvela un po'. In pratica è il sesso. Il sesso è, per me, la prova più forte dell'esistenza di un creatore. Ed è disponibile a chiunque, cioè chiunque può capirla. Cioè il fatto che noi non siamo assessuati e nemmeno ermafroditi, ma siamo uno maschio e l'altro femmina. Per dirlo in termini più umani, uno uomo e l'altro donna. Cioè il corpo dell'uomo dice l'esistenza del corpo della donna. E il corpo della donna dice l'esistenza del corpo dell'uomo. Ma quello che è strano è che sia l'uomo che la donna possono vivere benissimo cent'anni, anche duecento, senza mai incontrarsi. Io, il mio cuore funziona lo stesso, anche se non incontro mia moglie. I reni funzionano lo stesso, i polmoni pure, i muscoli, tutto funziona. Il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa, la respirazione cellulare, tutto funziona. E così nel corpo della donna. I suoi reni, il suo cuore, il suo fegato. Lei digerisce, lei mangia, lei dorme, lei cammina, lei lavora, lei pensa, fa tutto quello che deve fare senza bisogno di incontrare un uomo. E potremmo vivere anche fino a cento, anche fino a duecento anni. Ma allora perché? Perché nel mio corpo, in una zona ben precisa, particolare, che sono i testicoli, ogni giorno delle celluline prendono i loro cromosomi, che sono 46, e cosa fanno? Li dividono in due. Li portano a 23. È una cosa che non fa nessuna cellula del nostro corpo. Noi abbiamo qualcosa come 10 alla 12, 10 alla 13 cellule, cioè decine o centinaia di miliardi di cellule. Tutte con 46 cromosomi. Tutte si dividono, fino a quando non moriamo, si dividono. Quelle vecchie lasciano il posto a quelle giovani, ma tutte hanno 46 cromosomi. Solo nei miei testicoli ci sono delle cellule che dimezzano il numero di cromosomi. Contemporaneamente, nel corpo della donna, tutte le cellule hanno 46 cromosomi. Una cellula al mese, e solo nell'ovaio, alternativamente quello di destra e quello di sinistra, fa la stessa cosa dello spermatozoo. Prende i suoi 46 cromosomi, ne tira via 23 e se ne tiene 23. È il processo che i liceali chiamano meiosi, meiosi. La meiosi è esclusiva delle ghiandole riproduttive. Ma perché lo spermatozoo dovrebbe dimezzare il numero di cromosomi? Ma si dice normalmente, è per forza, perché deve fare il bambino. Eh no, per forza, un momento. Lo spermatozoo non sa che deve fare un bambino. Lo spermatozoo non sa nemmeno che esista il corpo di una donna. Non sa neanche che esiste la cellula uovo. Lui sa solo che è lì, nei testicoli, parla con tutte le cellule e a un certo punto ha la pubertà, tra l'altro, perché c'è anche questa complicazione. Perché non è che il bambino vada soggetto a questi processi, no. Per alcuni anni non succede niente. Poi a un certo punto parte un fattore di rilascio dalla base dell'ipotalamo, quello che governa il ciclo femminile e che governa anche la spermatogenesi. Intorno agli 8, 9, 10, 12 anni comincia questo processo che ha veramente dell'incredibile. Perché queste cellule, ripeto, dimezzano il numero di cromosomi. Perché? Perché poi lo spermatozoo deve andare a fecondare una cellula che è presente in un corpo di cui non conosce nemmeno l'esistenza. La buca fonde i due nuclei e si forma il nuovo nucleo, lo zigote, si forma il nuovo essere umano. Ecco. Ma la domanda che mi pongo e che pongo a tutti voi è, appunto, non è questo fatto, cioè il fatto che nei testicoli sta accadendo questo e nelle ovaie sta accadendo quello che sappiamo, non è questo fatto un aggiornamento formidabile della quinta via di San Tommaso. Cioè, c'è un fine. Io non riesco a spiegare questo comportamento se non con una causa finale. Cioè, è come se lo spermatozoo sapesse che deve andare a fecondare un uovo. Ma non è cosciente perché è fatto di quattro molecole, di un po' d'acqua. Allora, la sessualità è per me la prova più evidente di un progetto. Quale progetto? Quello della riproduzione. Ma non riesco a spiegare questo progetto se non uscendo dal sistema. Cioè, lo spermatozoo non ha in sé la forza di giustificare quello che fa. È nemmeno l'uovo. Perché qui si incontrano due mondi totalmente paralleli. Però uno è fatto per l'altro, ma non lo sanno. Perché sono esseri, sì, sono esseri animati ma non sono consapevoli. Ecco. Allora, proprio il fatto che esista un uomo complementare ad una donna è la manifestazione di un progetto. È quello che Giovanni Paolo II chiamava il significato responsabile del corpo. Cioè, il nostro corpo ha una vocazione che è scritta nella sua anatomia. E qual è questa vocazione? Essere dono. Perché nel matrimonio che cosa fa l'uomo se non donarsi alla donna? Eh, noi uomini in particolare. No. Scherzavo. Le donne. Le donne si donano all'uomo. Quello sì. Quello sì. E noi, insomma, qualcosina facciamo. Ma ecco, questa è una prova molto forte, secondo me. L'ultima domanda. Beh, ce n'è una molto simpatica che dice, se è vero quello che dici tu, dovremmo fare tutti i preti. Che vuole fare la parafrasi dell'altro discorso. Ecco, invece questa è quella più delicata. La tengo per ultimo. Proprio due minuti ma merita. Se tutto è a ragione, progetto Logos, come spiegare le malattie genetiche, gli errori della natura? Beh, qui per fortuna ha appena risposto il Papa in persona allo tsunami, a quella bambina giapponese, no? Ha dato una risposta stupenda. Questa bambina giapponese che dice, la mia casa ha tremato, sono morti tutti. Io vivo nella paura. Cosa succede? È il Papa che gli dice, anch'io non ho risposte. Posso dirti che Gesù Cristo è lì con te. Che io sono con te. Che tutti gli uomini sono lì con te. Ecco. Però c'è effettivamente questa linea oscura che attraversa la storia dell'universo e la storia dell'umanità. Che è questa linea fatta di errori, di imperfezioni, di malattie genetiche, di vulcani, di terremoti. E qui non riusciamo a dare spiegazioni di tipo scientifico. Ci sono solo spiegazioni di tipo teologico. Però, siccome la domanda è posta in ambito scientifico e vorrebbe dire, ma come si fa a parlare di progetto se ci sono questi errori? Ecco. La risposta è che gli errori sono tali perché c'è un progetto. Cioè, se fosse tutto casuale, allora non potremmo riconoscere quello che è giusto da quello che è sbagliato. Quelli che sono gli errori della natura sono delle deviazioni rispetto alla norma, cioè rispetto al progetto. Quindi vuol dire che c'è un progetto che ogni tanto fa degli errori. Ecco. Questo sì. Questo è perché la natura non è stata, forse nel disegno di Dio, doveva essere anche perfetta. Poi sappiamo che il peccato ha alterato questo ordine. Ma questa è una spiegazione che do di carattere teologico. Però, attenzione, perché non scalza la bontà del discorso che abbiamo fatto. Io devo spiegare il cuore che funziona, anche se so che ci sono dei cuori che non funzionano. Ma tu devi spiegarmi come mai il cuore funziona. Non so se ho reso l'idea. Basta, grazie. Grazie. Questi me li porto a casa. Ringraziamo il nostro relatore, Umberto Fasol, che stasera ci sarebbe proprio da ascoltarlo per lungo tempo. Troppo buono. Lo prenotiamo per un altro anno, perché ormai è diventato un regular, come si dice. Grazie. Allora vi do qualche semplicissimo avviso. Intanto è disponibile il suo libro, Evoluzione o complessità, la nuova sfida della scienza moderna. Fede e cultura, Umberto Fasol, è lì al tavolo alla vostra destra. Potete mettere i soldi nella cassetta e potete prendere il libro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti